Sulla griglia speriamo di vedere una sfida emozionante in questo Gran Premio di Francia. Verstappen ha appena registrato il miglior tempo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Grazie per la visione! Abbiamo carburante a sufficienza per altri 7 giri. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Il distacco dalla vettura dietro di te è 2,2 secondi. Grazie per la visione! 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 Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sei all'ultimo giro. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 37,6 secondi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco i vincitori di oggi. Che grande gara. Questa è una squadra che sa bene cos'è il successo in Formula 1 e non vede l'ora di conquistarne altri. Congratulazione all'alpina per la loro grande vittoria di oggi. Grazie a tutti. 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 Devi cedere a tutti. Grazie 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 a tutti.